Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignor. Infipilita Empoli Est e lo svincolo di Empoli Ovest in direzione Livorno, Coda per veicolo fermo o in avaria. Traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In a 12 è chiusa fino alle 20 di oggi l'entrata a Rosignano Marittimo in direzione Genova. A Firenze alvia la nuova fase dei lavori in Viale Matteotti per quanto riguarda i cantieri della tranvia. In programma anche lavori notturni in Piazza della Libertà. Fino a venerdì 26 aprile lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Firenze Pisa e Pisa-Roma. Possibili variazioni e cancellazioni. Morse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie per la visione!